Questo succede quando si canta dal vivo, quindi io vi ricordo che l'accademia continua ancora nel periodo di luglio, quindi diamo la possibilità anche di fare un piccolo ripasso e cosa in modo, è tipo una sorta di grace musicale, quindi faremo delle cose un po' diverse, daremo un sacco di compiti, quindi rimanete con noi per il finale, perché quest'anno, poi grazie anche al nostro allievo, abbiamo voluto per la prima volta sperimentare una cosa, nel senso che voi sapete che noi insegnanti, questo succede anche a scuola, non siamo solo insegnanti, ma siamo formatori e siamo anche educatori, quindi questa scuola ha anche la fortuna, diciamo, di avere dei musicisti, quali siamo noi, che facciamo anche attività di concerto, e quindi quest'anno abbiamo chiesto la collaborazione al nostro allievo, perché simuleremo un po' quello che succede sul palco, perché pensate che suonare è suonare, ma gestire il palco è tutto un'altra cosa, e quindi noi insegniamo come muoverci sul palco, come gestire il gruppo, quindi per noi quest'anno poi direte voi se ha funzionato, continueremo poi, quindi dall'anno prossimo insegneremo anche ai vostri figli come si gestisce il palco, perché sul palco a cantare non si è così, cioè ci sono i movimenti, come vedete, dei gesti, tutto studiato, quello si è cantando da solo, si sta caricando, quindi devo andare avanti a parlare. basso, bravo, una cenetta a lungo di candela, quindi il gran finale che poi vedete poi noi insegnanti, perché giustamente noi soffriamo a non suonare, quindi ci sarà uno spettacolo anche di noi insegnanti, e poi ci sarà, a sorpresa che vi dico poi, facciamo un omaggio, grazie poi a un nostro allievo, ad un grande della consiglia popolare folcloristica, che adesso non vi svelo chi è, poi ve lo svelo, ma ecco, abbiamo simulato, e quindi quando noi faremo saremo, ci caleremo nella parte, e saremo realmente, questo allievo sarà proprio quel personaggio, e per noi è cosa quotidiana, perché suoniamo tutti i giorni, nelle piazze, nelle valere, ma sarà un esperimento che continueremo anche l'anno prossimo. Bene? Oh, ce l'abbiamo fatta! Allora, un filo di seta negli abissi, Stefania di Elisa, giusto? Buon canto! Io se solo sapessi cos'è, cosa c'è dietro a quell'ombra, che ti fa cambiare il faccio, e fa dire quello che non si pensa, Dove si è portato il filo, di seta che ci univa, e scendeva tutto, tutto, Gio negli abissi, e dall'universo scendeva tutto, tutto, Gio negli abissi, e altro a cercarlo adesso, io, se solo sapessi dov'è, dove ho perso la mia pazienza, E ho lasciato la speranza, per trovare in te speranza, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.